Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo. Ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, prendista stragone, guardiano dell'Anticristo e abito a Marghera, in piazzale Parmesan 8. E niente, se qualcuno dovesse avere dei dubbi su quello che diciamo, specialmente in merito all'attività dei preti cristiani di distruggere la vita delle persone e di trasformare le persone in oggetti di possesso per cui da comprare, vendere, smerciare, può andare in edicola, quelli della provincia di Venezia però, e comperarsi la nuova Venezia. La nuova Venezia, a pagina 17, prostitute sfruttate, prete in manette, nigeriano, arrestato insieme alla compagna, un pensionato di Musile. Il fatto è accaduto poco tempo fa e questo fatto ci fa anche chiarezza su alcuni episodi strani che avvengono in provincia, o comunque episodi che avvengono un po' in giro, dove secondo alcune persone, specialmente forze dell'ordine, affermano che avvengono dei riti tipo voodoo, tipo sgozzamento di galline o roba di questo genere. Ebbene, in questo articolo è abbastanza chiarificatore della situazione perché questo prete cristiano lavorava insieme a una donna che praticamente praticava i riti voodoo. Cioè praticamente i riti voodoo non sono i riti del voodoo, ma sono i riti che i cristiani attribuiscono al voodoo seminando superstizione in Nigeria e usando la superstizione che hanno seminato in Nigeria quelle orde assassine e criminali dei missionari per terrorizzare le ragazze e sfruttare la prostituzione in Italia e in altri posti. Non della religione voodoo si tratta, ma dell'interpretazione della religione voodoo che ne danno i cristiani, più o meno come vi ho letto oggi del cristianesimo e i riti orfici. Vi do un breve accenno di questo articolo che trovate, torno a ripetere, quelli della provincia di Venezia, se andano giù, vanno in edicola, comprano la nuova Venezia e se lo leggono in questo momento. La ragazza che ha denunciato vive a Framusile di Piave e Framusile Sandonà, in appartamenti che divide con un'altra decina di ragazze. Si prostituisce a seconda del periodo a Mestra sul terraio sulla Ponte Bana. A sfruttarla sono Helen Hodia, 32 anni, e il suo compagno Godwin Osaboyen, quest'ultimo prete della Chiesa Evangelica in Nigeria, H. Predica un po' dovunque, ma la sua base è nel bar Aurora di San Gimignano, in provincia di Pisa, dove l'altro giorno lo hanno arrestato mentre vestiva l'abito talare. La donna invece era la mamma, cioè colei che con strani riti ritenuti magici doveva tenere sottomesse le ragazze da sfruttare. I due sono finiti in manette per sfruttamento della prostituzione e distorsione, come del resto Bruno Borin, 61 anni, il pensionato di Musile che aveva sposato Helen Hodia per consentire a questa di ottenere la cittadinanza italiana. È chiaro il quadro? Meditatice un pochino, questa è una notizia che viene fuori sulla nuova Venezia. Noi avevamo sempre detto che i cristiani sono dietro a tutte queste cose, dietro a tutta questa porcheria, perché solo nel cristianesimo c'è il concetto che l'individuo è oggetto di possesso. Solo nel cristianesimo, anche nell'islam, nell'ebraismo, cioè comunque solo nelle religioni rivelate di natura giudaica, gli individui non sono persone, non sono dei soggetti di diritto, ma puro e semplice bestiame, le pecore del Dio padrone, le pecore che riconoscono il padrone, che seguono il padrone. Vedi Giovanni. Ho voluto darvi questa notizia perché l'ho appena preso, la nuova Venezia, ci ho appena preso il giornale, Francesco va a vedere le notizie, siamo andati a cercarlo durante la pausa e naturalmente trovando il giornale ho voluto darvi immediatamente questa notizia. Bene, meditate un po' sopra queste cose, perché il paganesimo non è soltanto gli dèi al posto del Dio cristiano, il paganesimo è uno stile di vita, è un modo con cui si guarda la vita, è un modo con cui si fondano principi etici e principi morali della società, è un modo effettivamente serio di guardare la vita. Ok, detto questo passiamo ad un altro argomento. Intanto io ho in mano una cassetta VHS, una cassetta di 180 minuti di filmato del congresso, settimo congresso mondiale delle regioni etniche tenuto ad Atene. L'amico è venuto, mi ha portato la cassetta, sono felicissimo, lo ringrazio un miliardo di volte, gli ho chiesto di farne delle altre cassette naturalmente per gli altri pagani che volessero visionassero. Abbiamo una mezza idea di fare un incontro sempre qui in Radio Gama 5 per vedere anche questo filmato, proprio per discuterlo anche, quello che è successo ad Atene durante il congresso mondiale delle regioni etniche, che secondo me è stata una delle cose più grosse che io personalmente abbia visto. E comunque ringrazio un miliardo di volte le persone che hanno lavorato per fare questo lavoro. è una cassetta VHS di 180 minuti, non so quanti minuti ci siano di filmato, ma ha filmato veramente tantissimo, tantissimo, tantissimo. Abbiamo anche scattato numerosissime fotografie, ma ha filmato veramente tanto, grazie un miliardo di volte. E naturalmente anche questo servirà per far capire che cos'è il paganesimo e che cos'è la stregoneria. Ok, adesso parleremo un attimino del lino omerico a Demetra, che fa sempre parte di quei principi etici, divini, morali, magici, religiosi con cui affrontare la vita e che non ha nulla a che vedere con ciò che è il cristianesimo. Purtroppo il cristianesimo non è altro che un buco nero nella storia dell'umanità. Un buco nero che pratica la manipolazione mentale degli individui, che stupra gli individui, che impedisce agli individui di guardarsi la realtà della loro esistenza per sottometterli a una verità imposta. Sicuramente il cristianesimo non è altro che assassino delle persone, assassino psichico, assassino murale, assassino fisico, per ordine del suo Dio. Eravamo arrivati a commentare l'inno omerico a Demetra, quando Metanira scopre Demetra che metteva il suo figlio nel fuoco e lo metteva nel fuoco della coscienza, della consapevolezza. Cioè non è che un cristiano direbbe prendo mio figlio e lo metto in mezzo al fuoco perché se Dio quel fuoco ha fatto diventare intelligente e sta altro, sicuramente diventa intelligente. Non è così che funziona. Solo un cristiano può interpretare le cose in questo modo. Metanira scopre Demetra e Demetra sta parlando a Metanira e parla in questo caso del figlio di Metanira e dice Egli avrà tuttavia un privilegio imperituro, per sempre, poiché è salito sulle mie ginocchia e è dormito fra le mie braccia, in suo onore. Ricordiamo che Demetra è la crescita, è il divenire, è la trasformazione. E ogni volta che l'anno avrà compiuto il suo ciclo attraverso le stagioni, i figli degli Eleusini per sempre eseguiranno un combattimento fra loro, una mischia violenta. Io sono l'Augusta Demetra, colei che più di ogni altro gli immortali e i mortali offre gioia e conforto. Orbene, per me è un grande tempio, in esse un'ara, tutto il popolo innanzi ai piedi della rocca del suo muro sublime, più in altro il callicoro, sopra un contraforte del collo. Io stessa vi insegnerò il rito, affinché in futuro, celebrando secondo l'ordine divino, possiate placare il mio animo. Ebbene, Demetra istituisce i giochi Eleusini. I giochi Eleusini, vi ricordo, diventeranno famosissimi, faranno parte praticamente, credo che facciano parte delle Olimpiadi o comunque diventano parte delle Olimpiadi o parte dei giochi che portano anche alle Olimpiadi. E istituisce praticamente questi rituali ginici. Commento, Demetra trova la ragione della sua esistenza nel nuovo equilibrio che è venuto formandosi dal rapimento di Persephone. In questo frammento lino-merico a Demetra c'è la soluzione di tutta la ricerca di Demetra. Il suo vagabondare alla ricerca di Persephone termina in questo momento. Demetra ha ritrovato se stessa, proprio nello scontro che ha avuto con Metanira. Metanira è la madre di Demofonte, la madre del bambino che veniva messa nel fuoco. Metanira, intervenendo, le ha impedito di portare a termine il suo proposito di vendetta e Demetra ritorna ad essere la dea della libertà. Da questo momento assistiamo a un altro lino-merico. Se la prima parte era caratterizzata dal dissolvimento di Demetra nel suo dolore, ora l'inno prosegue con la ridefinizione del mondo nel nuovo assetto. Da questo momento in poi le cose inizieranno un processo di ricomposizione, solo perché Metanira ha saputo spezzare la spirale in cui Demetra e con essa la vita erano cadute. Siamo davanti a un inizio, dove ogni soggetto della storia deve dare all'altro qualche cosa di sé. Lui ha dato, ora tocca a te dare. Dare agli altri qualche cosa di sé affinché gli altri diano qualche cosa di loro, al fine di costruire un'oggettività ottimale nella quale esistere è uno degli insegnamenti fondamentali agli iniziati di Eleusi. La prima condizione che deve essere risolta è quella fra Demetra e il bambino, Demofonte. Demetra voleva usare Demofonte per la sua vendetta, ma per consumare la vendetta ha reso potente Demofonte, lo ha immerso nel fuoco della conoscenza, è salita sulle sue ginocchia e ha dormito fra le braccia di libertà. Non potrà mai più essere assoggettato ed è il privilegio imperituro che Demofonte ha avuto. Questo aspetto di Demetra come libertà nella crescita che scioglie i legamenti dovrà essere tenuto ben presente per il proseguo dell'interpretazione dell'inno a Demetra. Questo perché è esattamente ciò che diviene Demetra proprio per il fatto che Persefore è entrata nell'Ade. La prima cosa che Demetra impone agli Eleusi è l'onore a Demofonte. Demetra non potrà mai più portare gli Eleusini nel fuoco della conoscenza ed allora è giusto che gli Eleusini imparino ad entrare da soli nel fuoco della conoscenza. Ed è il vivere per sfida. Una volta all'anno gli abitanti di Eleusi, per onorare Demofonte che è stato immesso nel fuoco della conoscenza e della consapevolezza, dovranno cimentarsi in una mischia violenta. In giochi, in gare, dovranno prepararsi tutto l'anno a partecipare, dovranno prepararsi ad affrontare la loro esistenza vivendo per sfida. Il vivere per sfida è la porta che porta nel fuoco della conoscenza e della consapevolezza attraverso la manipolazione delle proprie emozioni in relazione ad un fine. Demetra stessa dichiara di essere libertà. Io sono l'Augusta Demetra, colei che più di ogni altro agli immortali e ai mortali offre gioia e conforto. Demetra è la crescita, la forza che spezza i legamenti degli esseri, che li porta a crescere nel loro presente. La spiga che viene portata nelle mani di Demetra è il risultato finale della sua rappresentazione. Ciò che era legato e impedito dal seme, ora è una spiga. La gioia e il conforto portati da Demetra sono gli atti della crescita dei singoli esseri. Demetra è dunque libertà, dalle condizioni che incatenano i soggetti nel momento presente. Per portare gli esseri umani all'Olimpo, Demetra deve fissare l'intento fra gli esseri umani. Deve cioè lasciare il simbolo dell'intento affinché questo si rinnovi generazione dopo generazione. Il tempio che chiede Demetra ha questa funzione. Nel tempio Demetra insegna i misteri affinché gli esseri umani possano immergersi nel fuoco della conoscenza. Placare l'animo della Dea, ecco un altro dei misteri di Eleusi. Dov'è l'animo in ansia, nervoso, pensieroso, preoccupato, in tensione o turbato? Non è forse il nostro animo quando guardiamo alla vita? Non è forse l'animo del guerriero che ha organizzato le battaglie della sua esistenza e che è consapevole che gli oggetti del mondo hanno organizzato le loro battaglie d'esistenza alle quali egli forse non potrà sottrarsi? E tutto questo vortice di emozioni non sono forse gli stati d'animo degli individui che affrontando la loro quotidianità modificano se stessi? E modificare se stessi non significa crescere sciogliendo i legamenti del presente? E sciogliendo i legamenti del presente non offre gioia e conforto al mortale che affronta le contraddizioni della sua esistenza? È l'Augusta Demetra che dentro gli esseri preme per portarli a crescere, chiede all'essere umano di placarla dentro di sé, costruendo la sua esistenza sfida dopo sfida. In questo passo dell'inno americo a Demetra troviamo la Dea che trova la sua dimensione. Persefone si calna il Tartaro e dal Tartaro germogliano nuovi dèi e nuovi dèi avranno dentro di sé Demetra che dovranno placare se vogliono costruire se stessi, entrare nel fuoco della conoscenza e della consapevolezza e presentarsi come dèi all'Olimpo. Ecco dunque, il rapimento di Persefone ad opera di Ade, altro non fu che la qualità che emerge dalla quantità. Ora una nuova quantità dovrà accumularsi e nell'accumularla Demetra manifesta le sue strategie. Non sono più le strategie di prima, che la qualità a cui assistiamo emergesse. Sono nuove strategie per nuovi intenti che comunque sono riferiti all'intento universale. E andiamo ancora avanti con la lettura degli inni e dei commenti all'inno americo a Demetra. Così dicendo, dice l'inno americo, così dicendo la dea mutò di stature d'aspetto, respingendo da sé la vecchiaia, ricordavo che Demetra stava girando per il mondo travestita da vecchia, ne abbiamo già parlato con la foglia controllata. Così dicendo la dea mutò la statura e l'aspetto, respingendo da sé la vecchiaia, la bellezza intorno a lei raggiava, un dolce aroma dal suo peplo odoroso si effondeva e per largo tratto una luce dalle membri immortali della dea rifulgeva. Le bionde chiome le ricoprivano gli omeri e la solida casa si riempì di splendore, come per un lampo. Chissà perché questa immagine i cristiani la usano sempre per definire le apparizioni della loro porca Madonna, eh? Madonna porca, proprio perché impone agli esseri umani la figa vergine. Ella uscì attraverso la sala e alla donna subito si sciolsero le ginocchia. Per lungo tempo restò senza voce e nemmeno si ricordava del figlio prediletto di raccoglierlo dal pavimento, ma le sorelle udirono il pianto implorante del bambino e balzarono giù dei soffici letti, quindi una di loro prendendolo fra le braccia se lo strinse al petto. Un'altra ravvivò il fuoco e un'altra corse col piede leggero per accompagnare la madre via della sala odorosa. Lavarono il bambino che si dimenava, standogli intorno e circondandolo di ogni cura, ma il suo animo non si addolciva, poiché meno brave davvero erano le nutrici che ora si occupavano di lui. Dunque muore un corpo fisico e nasce un corpo luminoso. La trasformazione di Demetra è la trasformazione della morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, un altro dei misteri di Eleusi. Lei non è più la Demetra di prima che ha dei rapisse Persefone, ha tentato di liberare la figlia, ha tentato di ritornare alla situazione di prima che avvenisse il rapimento, ha vissuto l'infinita tristezza di non poter tornare a come era prima del rapimento. Non c'è ritorno nell'utero materno, né nell'utero della vita fisica. Grazie a Metanira è rinata Demetra. Ora può dispiegare se stessa nelle nuove strategie di esistenza che Ade e Persefone stanno preparando. È morta la Demetra che era, prima che Ade rapisse Persefone, ed è nata la nuova Demetra. La vecchiaia scompare, Demetra muta di statura, ed ora raggiante guarda il tempo che viene incontro. Il dolore non è scomparso, la tristezza non è sparita, ma né il dolore né la tristezza la tengono più prigioniera. È morto un corpo fisico, è nato un corpo luminoso. Questo è il significato di, così dicendo, la Dea mutò la statura e l'aspetto, respingendo da sé la vecchiaia. La bellezza intorno a lei reggiava un dolce aroma del suo peplo odoroso. Si effondeva e per largo tratto una luce dalle membri mortali della Dea rifulgeva. Le bionde chiome le ricoprivano gli omeri e la solida casa si riempì di splendore, come per un lampo. Sembra di leggere alcuni racconti di esperienze di premorte NDE, ed è da quelle visioni che l'immagine viene presa, indicando la nascita del corpo di luce dall'individuo fisico che vecchio sta morendo. Quanto si svela agli occhi di Metanira è di una tale immensità che Metanira non ha più parole. Ha esaurito la sua forza. Viene spinta fuori dalla sua ragione e naviga in sensazioni che mai avrebbe pensato di provare. Dimentica delle relazioni fra sé stessa e il mondo, ma il mondo non la abbandona. Accorrono le sorelle del bambino, le figlie, che raccolgono il bambino a terra. Il mondo accorre e rimette in moto la ragione. Così sono le sorelle che giungono, soccorrono il bambino, riaccendono il fuoco e aiutano la madre a riprendersi dalle emozioni. È morta la vecchia Demetra ed è nata la nuova Demetra. C'è ora un nuovo mondo da ricostruire, un mondo di relazioni e di sentire magici che prima erano ignoti. Ora il mondo sta tremando di terrore. Siamo davanti ad un inizio. È un momento di fragili equilibri sui quali si fonda il futuro. Quali decisioni prenderà il presente? Come agirà la nuova Demetra? Come reagirà il mondo all'arrivo di questa nuova Demetra? In quella pozza gorgheggiante, un infimo e possente celeo sta progettando il futuro di tutta la specie dell'essere natura. In quella pozza c'è il cuore di Rea e l'attese di Hera. E in effetti questa scena che viene rappresentata nell'innumerico a Demetra ha una lettura reale ed è la lettura dell'uscita del brodo primordiale dei primi esseri che hanno fondato la vita. Perché tutta la storia che noi abbiamo in relazione a Demetra, celeo, metanira non è altro che una visione di stregoneria del momento in cui gli esseri della natura sono usciti dal brodo primordiale. Quel celeo non è altro che il primo eroe, chiamiamolo così, il primo infimo essere che ha avuto la forza di uscire dal primo brodo primordiale e di dar vita alle specie multicellulari. E questo è che ci racconta l'innumerico a Demetra. Questa è il potere, la possanza dell'innumerico a Demetra perché quella di prima era la prima Demetra. Era la Demetra figlia di Titani che agiva negli esseri che erano figli di Titani. Ma ora siamo in un nuovo mondo. Siamo nel mondo in cui Zeus ha fagocitato Meti. I cristiani direbbero ha divorato sua moglie Meti. Zeus ha fagocitato l'intelligenza progettuale. Rea è la Terra, Zeus è l'atmosfera. C'è una era che si sta muovendo all'interno di un brodo primordiale. Da questa era deve germinare il futuro. Il futuro sono gli esseri pluricellulari ed è questo lo scontro che è avvenuto fra il Demetra il rapimento di Persephone che entra nel sottoterra per cui c'è la germinazione c'è il seme che viene a spuntare da sottoterra c'è l'uovo che ha il pulcino dentro che ha il picco dentro c'è il ventre quelli che saranno i mammiferi che hanno la parte interna c'è la cellula che si sdoppia c'è praticamente il tartaro c'è l'ade che comincia a far germinare le nuove coscienze e questo inno di Demetra va a spezzare questi due momenti c'è un prima e c'è un dopo e questo è il senso la possanza l'enormità dell'inno omerico a Demetra certo noi parliamo di Eleusi noi parliamo di un tempio fisico in cui si tenevano dei riti parliamo di una città in cui c'erano i giochi parliamo di cose di quella quotidianità ma quelle cose di quella quotidianità hanno descritto una trasformazione antica esattamente come la scopa che usava la donna per pulire per terra in percezione alterata diventava il cavallo per cavalcare nell'infinito per andare al sabba per avere quelle gioie che la quotidianità orrenda e assassina dei cristiani gli negavano cioè praticamente noi con l'interpretazione dell'antico stiamo eliminando quello che è la descrizione dell'infinito la descrizione gli elementi della descrizione con cui gli antichi descrivevano le trasformazioni della vita e li riportiamo ad elementi del momento attuale cioè con la nostra interpretazione non facciamo altro che portare l'antico mito dell'inno numerico a Demetra come fu scritto circa 3000 anni fa come veniva raccontato 3000 anni fa 2500 2700 2800 fate voi quello che volete lo portiamo e lo traduciamo con il linguaggio attuale con il linguaggio di adesso certo io come apprendista stregone lo posso fare sono fortunato ho sempre detto anche per i microfoni di questa radio una volta i stregoni dovevano aspettare per provare quello che dicevano dovevano aspettare che l'allievo si modificasse che cominciasse a penetrare lo sconosciuto che lo circondava che cominciasse ad avere il piacere nell'uso del coraggio che cominciasse ad avere il piacere della conoscenza della consapevolezza il potere che gli dava espandersi nella vita gli stregoni dovevano portare pazienza oggi io posso fare un'altra operazione diversa posso dimostrare che c'è questa possibilità non devo incatenare le persone per portarle avanti in modo che abbiano il piacere emozionale di quello che fanno ma posso già dimostrare che esiste questa possibilità cioè praticamente io sono talmente fortunato al giorno d'oggi che un giornale come la repubblica di quando proviamo a vedere di quando di quanti giorni fa tanto basta un attimo per sfogliare quelli che sono gli articoli eccolo qua no non è questo eccolo qua il giornale della repubblica del 28 giugno 2004 28 giugno 2004 praticamente tre giorni fa due giorni fa dice esperimento a Friburgo il sesto senso dell'uomo non è fantasia quella strana sensazione che si prova quando si crede di essere osservati da qualcuno senza vederlo potrebbe essere qualcosa di più di un puro frutto dell'immaginazione e rappresentare addirittura la prova che il sesto senso esiste davvero alcuni esperimenti condotti da un gruppo di scienziati dell'università di Friburgo scrive il domenicale Sunday Times hanno prodotto risultati sorprendenti che suggeriscono la possibilità che l'uomo possieda veramente poteri paranormali in realtà non è questo cioè non è una questione di poteri paranormali noi possediamo il potere di percezione del mondo che abbiamo ereditato dai nostri avi cioè i nostri avi quando non avevano occhi quando non avevano orecchie non avevano naso non avevano altri sensi noi abbiamo tutta una serie di sensi interni incapaci di percepire di relazionarci col mondo per cui di capire cosa sta avvenendo nel mondo soltanto che non siamo educati ad usarli cioè non ci servono in modo talmente importanti da farli emergere abbiamo gli occhi abbiamo il naso abbiamo la bocca abbiamo una descrizione del mondo che è fisica che ci è sufficiente certo che però tutte le cose le parti interne che noi abbiamo hanno anche se non hanno degli sbocchi degli sbocchi corretti nella vita per esempio questa modalità di percezione del mondo se non viene usata in maniera corretta in realtà è uno dei meccanismi base attraverso i quali si forma la paranoia per cui quando il monoteismo ti porta alla malattia e questo meccanismo non ha soddisfazione in condizioni particolari viene fuori praticamente gli individui paranoici specialmente poi con i sistemi educazionali dei monoteisti dei cristiani noi abbiamo tutte queste forze all'interno e oggi come oggi tu lo ripeti io sono molto fortunato perché la scienza mi sta dimostrando che quello che stiamo dicendo in stragoneria è assolutamente reale l'altro giorno c'era una notizia su televideo che praticamente diceva che il sonno profondo non solo costruisce nuove connessioni neuronali nel cervello ma fa circolare le correnti elettriche a bassa frequenza cioè a velocità correnti elettriche lente che sono quelle che praticamente fissano le informazioni fissano il sapere e fissano la nostra capacità di comprendere il mondo se non se non viviamo in situazioni di sonno profondo noi non abbiamo non siamo neanche in grado di sviluppare il sapere e guarda caso sonno e sogni nella mitologia greca sono i figli di nera notte fate un po' voi insomma bene andiamo un attimino andiamo un attimino avanti ancora col discorso di di Demetra e di Lino Americo e facciamo anche questo ultimo commento vegliando tutta la notte cercavano di placare la dea gloriosa tremanti di terrore e all'apparire dell'aurora il possente celeo esattamente al possente celeo esattamente narrarono ciò che aveva descritto Demetra la dea della bella corona egli allora convocò in assemblea il popolo innumerevole e ordinò di costruire per Demetra dalle belle chiome un pingue tempio e un'ara sopra un contraforto del colle essi subito obbedirono e davano ascolto alle sue parole costruivano il tempio che aveva ordinato e questo sorgeva alto per volontà della dea quando poi ebbe terminato e posto fine alla fatica si avviarono per andare ognuno alla sua casa e la bionda Demetra sedendo nel tempio rimaneva in disparte da tutti gli dei struggendosi nell'impianto della figlia della vita sottile concetto di atemporalità quando si leggono i miti antichi anche se i miti sono rappresentati in forma umana vanno letti una dimensione di atemporalità o se si preferisce una definizione diversa in un eterno presente ricordate che quando avvennero gli episodi raccontati dai miti gli uomini non erano e la natura era a quelli che noi pensiamo gli inizi è superfluo per una persona religiosa pagana politeista ma sembra che sia fondamentale quando ci si rivolge una persona educata a pensare agli avvenimenti in termini temporali quando leggiamo miti antichi stiamo descrivendo il divenire cosmologico della vita un divenire cosmologico che viene rappresentato in forma umana una volta che la rappresentazione simbolica perde la memoria del simbolo e del suo significato rimane solo la forma rappresentata in se stessa il mito antico rappresenta la struttura filosofica e il racconto mitologico è un racconto simbolico della realtà e di come la realtà è venuta formandosi d'altronde i veggenti quando alterano la loro percezione guardano le antiche trasformazioni di esseri unicellulari scorgevano in essi se stessi gli stessi dei che si dibattevano dentro se stessi non c'era differenza di percezione di una cellula con la forma attuale fisica che rivestiva il veggente entrambi erano portatrici portatori degli stessi dei non c'era differenza fra gli dei che allora agivano dentro gli esseri e fuori gli esseri della propria specie e della natura in generale con gli dei che agiscono ora dentro gli esseri umani fuori gli esseri umani e dentro e fuori gli esseri della natura in generale sono gli stessi dei con forme di divenuto diverse così il mito assolve una duplice funzione da un lato descrive una situazione cosmologica dalla quale è divenuto il presente e dall'altro assolvia la lettura del presente affinché affronti e fondi il proprio futuro eracrito ha tentato di porre le basi affinché il nuovo modo di interpretare la realtà che sui tempi stava nascendo non si discostasse eccessivamente dal vecchio modo di leggere la realtà ha fatto quanto potè il passaggio dalla descrizione mitica attraverso il quale il presente è venuto forgiandosi alla dimensione razionale di interpretazione soggettiva del presente è un incredibile baratro che solo gli iniziati sono in grado di superare esistono sicuramente vari modi e vari approcci attraverso i quali superarlo ma eracrito era un uomo religioso e come uomo religioso pose le basi religiose alla sua azione la razionalità divenne proiezione delle interpretazioni soggettive sulle manifestazioni del reale in cui il soggetto viveva l'individuo cessava di essere il prodotto del mondo quale manifestazione dello scontro titanico dei divini dell'esistente ma diventava colui che immaginava la sua presenza come centrale necessaria nella realtà e faceva da propria immaginazione la descrizione della realtà stessa non più scontro di dei a forgiare il presente non più ares manifestato dagli esseri ma l'individuo che declamava e faceva della propria capacità di declamare la realtà del mondo alla quale si adeguava i fantasmi di morte erano in agguato so quanto sia difficile leggere la cosmologia mitologica quando si guardano delle forme e si raccontano storie di uomini e di dei in forma umana però questo è il segreto del mito o se preferite il modo col quale gli antichi dispiegavano la loro conoscenza e il modo col quale essi affrontavano la vita leggendovi i fenomeni mettetevi dei panni di un veggente che guarda l'origine del divenuto l'origine del divenuto avviene per dispiegamento delle stesse forze delle stesse tensioni che agiscono nel presente e dunque la forma originale del divenuto è la stessa forma con cui viene rappresentato nel presente all'apparire dell'aurora al possente celeo narrarono ogni cosa aurora apre le porte del futuro aurora dispiega il divenire degli esseri è l'alba che inizia il giorno anche il giorno di nuove vite sembra di vederlo celeo radunare il popolo innumerevole e ordinare di costruire per Demetra delle belle chiome un pingue tempio ed un'ara sopra un contraforte del colle sembra di vederlo celeo adunarsi con molti altri unicellulari trasformarsi e mettere insieme per costruire un corpo più complesso dell'essere natura finché esprimendosi Demetra si è più facile affrontare le sfide dell'esistenza e dare l'assalto al cielo degli dei gli esseri pluricellulari della natura sono dei templi in cui dimora la crescita Demetra ed essi obbedirono dando ascolto alle sue parole e si trasformarono generazione dopo generazione finché il corpo degli esseri pluricellulari divenne trasformandosi come Demetra aveva ordinato il corpo divenne grande per volontà della Dea il corpo divenne grande perché gli esseri manifestarono la volontà della Dea quando gli esseri figli di Era detro il via alla loro trasformazione fisica si avviavano ognuno a trasformare se stesso dando il via alla propria specie e a diversificazione delle specie ancora Demetra pensava la figlia in disparte e in disparte se ne stava dagli dei costruiva costruiva costruire e trasformare gli esseri costruiva e trasformava gli esseri ma non collaborava con gli dei questo è il concetto fondamentale che noi dobbiamo riuscire a capire per riuscire a capire la religione antica cioè tutto ciò che fu di antico non è niente a che vedere con quello che i cristiani descrivono i cristiani non hanno mai capito un cazzo delle antiche religioni proprio perché ne avevano un terrore folle le antiche religioni impedivano loro di stuprare i bambini stuprare i bambini significa impedire ai bambini di prendersi nella propria mano la responsabilità della loro vita di essere dei soggetti di diritto di dire al mondo noi esistiamo noi abbiamo il diritto di esistere abbiamo il diritto di fondare noi stessi noi siamo il futuro della società bene i cristiani hanno distrutto questo diritto l'hanno annientato per loro non esiste uguaglianza libertà fraternità non esiste niente per loro che non sia la sottomissione loro di assassino e questo è che ci dimostra la storia e quello che ci dimostra l'innumerico a Demetra è come gli antichi conoscessero perfettamente quello che era il divenuto della specie il divenuto degli esseri il divenuto delle trasformazioni e quel divenuto delle trasformazioni loro lo onoravano proprio perché loro in quel momento stavano fondando altre trasformazioni non basta che Celeo dica noi oggi combattiamo noi oggi lottiamo noi oggi manifestiamo noi stessi per costruire un grande futuro se nel momento presente oggi adesso nel 2004 noi non agiamo per costruire il nostro futuro ciò che fu la determinazione di Celeo allora è la determinazione degli esseri in ogni generazione e ogni generazione ha combattuto ha manifestato se stessa ha affrontato le loro quotidianità per costruire il futuro e noi dobbiamo fare lo stesso certo ammetto le condizioni nelle quali uno va a costruire il futuro all'interno dell'orrore criminale cristiano è qualcosa di talmente possente che gli dei antichi non lo immaginavano gli dei antichi non erano in grado di immaginare cosa fosse l'orrore che stava avanzando gli uomini antichi non seppero affrontare l'orrore che si stava presentando ma noi oggi lo conosciamo noi oggi lo conosciamo lo affrontiamo e da questo orrore andiamo a costruire il futuro se noi non fossimo in grado o ci tirassimo indietro dal farlo oggi cosa direbbe gente come Giordano Bruno gente come Gailei gente come milioni di donne bruciate vive torturate massacrate con un farneticante imbecille di Voitila che va farneticando no la tortura contro l'umanità quando lui l'ha applicata per secoli per macellare e torturare l'umanità terrorizzare è responsabile di 200 milioni di persone comperate e vendute dall'Africa alle Americhe lui è responsabile lui è responsabile di genocidio di traffico di schiavi per ordine del suo pazzo Dio se noi oggi come oggi non fossimo in grado di rappresentare noi stessi di manifestare ciò che noi siamo di affrontare il futuro nelle piccole cose nelle cose che facciamo cosa direbbero tutta quella gente che fu ammazzata mentre dall'Africa veniva portata alle Americhe cosa direbbero tutta quella gente che fu macellata portata al macello per fare le crociate cosa direbbero tutti quegli uomini che sono stati messi a ruogo incarcerati ammazzati soltanto perché gente come Voitila gente come Scola gente come Mattiazzo potesse derubare le persone che non si possono difendere stuprare i bambini costringendoli in ginocchio cioè con quale faccia noi potremmo guardare alla vita se consapevoli della necessità della vita di espandersi non agissimo per fare quello che noi possiamo affinché la vita si espanda questo è l'interrogativo che noi dobbiamo portare che noi dobbiamo rappresentare ed è attraverso questo che noi dobbiamo imparare ad affrontare la vita ad affrontare le contraddizioni dell'esistenza e c'è un premio c'è un premio per questo ed è la trasformazione del corpo fisico la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso un cristiano non ha futuro non esiste un al di là non esiste un paradiso un inferno esiste solo la fine di tutto certo se è stato angosciato ha vissuto una vita di merda perché gli hanno imposto una vita di merda la morte del corpo fisico sarà una liberazione dai tormenti indubbiamente questo ma non c'è un futuro oltre non c'è niente oltre a questo per un cristiano perché quando una persona viene costretta in ginocchio il prezzo che paga è Demetra cioè paga per essere in ginocchio Demetra la crescita paga con la sua capacità di affrontare il mondo rinuncia alla sua capacità di affrontare il mondo rinuncia a salire sulle ginocchia di Demetra ed è questo che si paga essere dei cristiani perché il cristianesimo è in posizione alla rinuncia delle cose io su una lista su una lista di discussione di internet su un ng ho mandato qualcuno aveva messo un email fra le altre cose citando il pezzo che ho messo in internet sulla manipolazione mentale a quel discorso che lui ha fatto io sotto ho messo il link cioè ho messo praticamente l'indirizzo affinché le persone raggiungero immediatamente quella pagina ho scritto leggete e fatevi un'idea bene una persona ha scritto sotto quella pagina e ha messo una lettera ve la ricordo la cito a memoria perché non ce l'ho qui presente e dice questo quella lettera fatalità ha detto io qualche giorno fa sono andato in garage in cantina a portare delle cose e siccome sono molto sbalato ho preso uno scaffale mi è caduto un cartone mi è caduto un contenitore un cartone con tutte le mie vecchie cose di quando ero bambino di quando andavo a scuola e fatalità c'era un quaderno c'era il mio vecchio quaderno di religione ormai fa erano anni che non guardavo queste cose allora mi hanno fatto scrivere 100 volte i 10 comandamenti 200 volte un passo di Matteo 200 volte altre cose praticamente ha detto mi hanno massacrato cioè questa persona si era dimenticata del massacro che aveva ricevuto nel fare la scuola nel fare il catechismo e l'aveva riscoperto qualche giorno fa cosa gli era successo in realtà dice io a scuola dice questa persona ho ricevuto ben altre violenze non solo questa dice però sono rimasto impressionato quando ho trovato questa cioè questa non me la ricordavo bene pensate un po' i bambini cosa subiscono nella relazione con preti e suore e poi vi stupite se vostro figlio ha problemi di droga vi stupite se vostro figlio ha problemi di disagio sociale vi stupite se vostro figlio ha dei problemi di apprendimento purtroppo preti e suore sono la feccia di questo paese oltretutto solo per il fatto di manifestare il loro pensiero fuori dalla loro regione commettono reati di apologia di strage commettono dei reati gravissimi naturalmente i magistrati non è che vanno a prendersi di tutti perché hanno altre cose da fare sembra bene diamo il via le telefonate 049 700 700 e 049 700 838 allora oggi vi ho raccontato un po' alcune spiegazioni su l'innumerico a Demetra e andrò avanti ancora perché oltre ai misteri di Eleusi tratterò i misteri orfici un po' alla volta beh qui adesso di Demetra ho ancora parecchio per andare avanti comunque tratterò gli inni orfici poi tratterò i dionisiaci cioè non gli inni orfici misteri orfici poi tratterò i dionisiaci poi andrò un po' avanti anche con le altre religioni misteriche le religioni misteriche rappresentano qualcosa di importante in realtà rappresentano l'ultima resistenza al cristianesimo cioè praticamente il cristianesimo quando arriva deve far fuori fisicamente le religioni misteriche e le fa fuori fisicamente nel senso che le massacra punto e basta cioè non è che ci siano mediazioni o altre cose di mezzo l'unica cosa che sa fare il cristianesimo è massacrare e torturare ebbene dalle religioni misteriche nasce la strada nasce la via la conoscenza nasce la stragonaria occidentale la stragonaria occidentale nasce con le religioni misteriche qualcuno può dire ma c'era ancora prima c'erano riti c'era questo sì è vero c'erano una serie di cose spesso anche superstiziose diciamo così cioè praticamente tutto quello che era il sottobosco dell'antiche dell'antiche città viveva anche un po' di superstizione un po' di piccoli riti quotidiani un po' di tante cose tutte queste cose però si sono sono venute trasformandosi dire che esistesse la stragonaria prima dell'arrivo del cristianesimo è abbastanza complicato qualcuno so che lo sta facendo però torno a ripetere bisogna riprendere invece ciò che fu le antiche religioni perché tutta quella che è la stragonaria è rappresentata nelle antiche religioni e bisogna imparare ad avere la lettura del quadro simbolico del quadro mitologico perché è l'unico modo che noi abbiamo per riprenderci quello che è il potere della trasformazione il potere sociale il potere etico il potere morale delle antiche religioni tutto naturalmente deve essere filtrato nel momento attuale cioè quando i miti antichi vengono scritti non esiste una situazione sociale così distruttiva così criminale come quella che abbiamo noi naturalmente quando è che cominciano a riprendersi le religioni antiche quando è che iniziano le religioni antiche a essere riscoperte e qui in Italia sappiamo che l'inizio della riscoperta di ciò che fu antico lo dobbiamo al boccaccio il boccaccio inizia praticamente quella riscoperta degli dei antichi poi c'è il catari che scrive qualcos'altro e via via cioè praticamente la storia si muove lentamente finché arriviamo alle repubbliche marinare e le repubbliche marinare riprendono alcuni concetti antichi alcuni concetti delle antiche religioni per poter commerciare praticamente quali sono queste cose adesso non le so tutte però in soldoni è questo i cristiani impedivano il commercio con chi non era cristiano le antiche repubbliche marinare in realtà diceva a me non me ne frega niente con la persona a cui sto vendendo la roba gli vendo la roba lei mi paga il giusto prezzo ci stringiamo la mano perché tutti e due abbiamo fatto l'affare e ci lasciamo cioè il commercio è commercio la religione è un'altra cosa questa separazione del discorso religioso da un discorso commerciale appartiene agli antichi e non ha niente a che vedere il cristianesimo impediva il commercio con chi non era cristiano infatti c'è tutta una serie di se volete leggervi di Pietro Citati Pietro Citati ha fatto un libro sui commerci dei vichinghi e su quelli che erano dei particolari tipi di battesimi che venivano dato all'altro per poter vendergli le cose è un gran casino le repubbliche marinare rompono con questo e le repubbliche marinare Venezia in particolare fa una delle più grandi operazioni storiche che viene quasi dimenticata però importantissima ed è l'unica repubblica che decide di cacciare il papa il papa scomunica la repubblica di Venezia Venezia caccia gesuiti tutti gli altri dalla città i gesuiti tutti gli altri fanno la processione in penitenza uscendo dalla città come escono dalla città il doge fa aprire le porte delle chiese di Venezia e fa vedere ai veneziani quanto oro sta gente si era portata via in quel momento il Vaticano è finito ed è la prima scomunica che il Vaticano è costretto a mangiarsi ed è un cambiamento della rotta della storia ricordo che nel cristianesimo il papa è l'unica persona a cui tutti gli imperatori baciano i piedi ed era un ordine totale assoluto ebbene Venezia se ne sbatte altamente le palle di questo dogma religioso e caccia dalla città i gesuiti e dimostra come sta gente la roba che gli interessava era il potere e i soldi cioè praticamente il potere in pratica bene io chiudo qui la trasmissione di magia stragonaria e paganesimo vi do appuntamento per giovedì prossimo e vedremo di organizzarsi per fare una trasmissione un po' più lineare diciamo abbiamo ancora da finire il crogiolo e lo stragone di quattro canti del mondo finiremo il crogiolo e lo stragone di quattro canti del mondo e una cosa ricordatevi di internet su internet potete scrivere su internet potete comunicare da internet potete scaricarvi le mie pagine e leggervi quello che è il paganesimo e la stragonaria in internet potete vedere le fotografie dei riti in internet potete vedere qual è il nostro statuto in internet potete vedere cosa amiamo e cosa non amiamo cosa vogliamo e cosa non vogliamo pertanto internet è la finestra che ci permette di dialogare col mondo senza qualcuno ci venga a spiegare le nostre idee il nostro modo di vedere le cose pertanto usate internet usate internet e usate internet io purtroppo non sono inglese adesso mi metto a studiare l'inglese perché devo scrivere anche su su dei forum inglesi proprio per il VCR mia figlia non è che abbia tempo di fare le cose per me insomma pertanto mi dovrò studiare inglese per riuscire a leggere le cose del VCR bene appuntamento allora a giovedì prossimo vi do appunto vi diamo un attimo pronto ho chiamato ancora volevo avere un po' di indirizzi scusa che abbasso visto che parla di internet avere dei riferimenti un po' che discorre di stasera è proprio una roba molto interessante come ogni sera si senti tu usi google come motore di ricerca google si ecco scrivi claudio simeoni ok claudio simeoni basta la prima pagina vieni Stefano la prima pagina che ti esce la prima pagina che ti esce credo che sia una pagina scritta su castaneda e la seconda pagina che dovrebbe usciverti dovrebbe essere già collegio dei sali l'index di collegio dei sali quando tu trovi una pagina mia tutte le mie pagine alla fine hanno l'indirizzo il mio indirizzo no? piazzale palmerà tu clicchi su ritorno all'indice e arrivi ad ogni prima pagina va bene perfetto ok comunque ricordati anche collegio dei sali perché al limite puoi cercarlo anche con google ok grazie mille complimenti grazie a te ciao bene ciao a tutti mando subito Stefano giustamente Stefano se qua sta preparando e vi do appuntamento per giovedì prossimo ciao subito pubblicità e vi do appuntamento